Il distaccamento aeronautico redossivo partecipa all'iniziativa in farmacia per i bambini. Il personale del distaccamento aeronautico Siracusa conferma anche quest'anno la presenza nelle farmacie della città di Siracusa insieme alle associazioni di volontariato del territorio per la lodevole iniziativa organizzata dalla Fondazione Francesca Rava che da più di dieci anni è diventata promotrice della campagna di educazione e sensibilizzazione che culmina nella giornata mondiale dei diritti dell'infanzia con obiettivi che vanno dalla sensibilizzare sui diritti dei bambini a creare una rete di solidarietà tra farmacisti, clienti, volontari, enti beneficiari, istituzioni e aziende con il fine nobile di portare un aiuto concreto ai bambini in povertà sanitaria. Sarà dunque una settimana di sensibilizzazione sui diritti dei bambini che perdurrà fino al 24 novembre.